ciao ragazzi eccoci di nuovo qua con il maresciallo per tutti gli appassionati come me comunque di furgoni o di macchine camioncini d'epoca ecco vedo che su internet non si soffermano mai a far vedere bene come è fatto magari una persona gli interessa soltanto vedere come è fatta questa plancia piuttosto che questa quindi facciamo un breve tour in 5 minuti vi faccio vedere tutta la plancia davanti del ducato come è fatta del mio ducato attenzione perché non so come mai la fiat in alcuni modelli metteva delle cose in altri no ma il modello era perfettamente lo stesso per esempio cominciamo da qui in basso a sinistra e vediamo che c'è la leva per l'alzacofono poi ci sono le prese d'aria vedete qui qui e qui ok ci potranno essere delle aggiunte per i camper ma questo non è un camper è un furgone nei furgoni precedenti qui c'era l'acceleratore a mano sulla versione diesel che in questo non c'è infatti quando l'accendo mi tocca tenere appoggiato un pochettino il piede sull'acceleratore poi ne sai mai quanto è ed è sempre un casino o lo ingolfi o non parte o deve prendersi una mano dopo di che cosa abbiamo abbiamo questi quastro interruttori vabbè due sono finte ci si può aggiungere quello che si vuole qui abbiamo le luci di parcheggio che ti accendono le luci di posizione e basta e l'interruttore per i fendi nebbia posteriori e vediamo il tachimetro perché purtroppo uno prima di me aveva provato a smontare e ha distrutto sto pirulino qui parte una miseria dove abbiamo luci di posizione abbaglianti vende nebbia frecce e freccia destra freccia sinistra che si accende sempre una freccia solo da un lato solo e il segnale delle quattro c'è il tachimetro che arriva fino a 160 chilometri orari ragazzi io ho notato con i navigatori satellitari quando uno fa 100 realtà penso che faccia 90 perché a 110 110 tachigrafo sia circa qui e 105 la velocità reale comunque non spingeteli troppo perché comunque mezzi vecchi se non hanno una revisione fatta come si deve non fidatevi perché siete abituati con le macchine adesso abs sp quello che non è molto sicuro anche perché scarico ma anche carico sediamo una frenata decisa ma anche non decisa sull'acqua sculetta dietro che è un piacere regolatore di frenata c'è ma non fidiamoci non ha la bs ok i freni inchiodano diretti senza nessun problema poi alla fine problema c'è perché andiamo a destra e sinistra ballando abbiamo l'indicatore della temperatura dell'acqua è l'indicatore del livello carburante nel serbatoia deve essere circa quasi 80 litri di gasolio quindi spia dalla batteria che non indica che la batteria scarica quando c'è la spia della batteria accesa ma indica che l'alternatore non carica spia dell'olio dell'acqua riserva posti liberi per eventuali altre spie poi sotto in basso a sinistra abbiamo una spia da freno a mano o livello freno stazionamento o livello olio insufficiente nel circuito frenato la spia che ti indica che il filtro dell'aria intasato la spia delle candelette la spia che indica possibile acqua nel gasolio e lo sbrinatore dietro ma non c'è lo sbrinatore quindi è predisposta ma non c'è andiamo avanti lo sterzo il best terzone del ducato vi assicuro che senza servo sterzo pesa in un poco se viene caricato no perché si alza un pochettino davanti e non pesa tantissimo ma quando è scarico davanti pesa veramente una cifra se non bilanciamo facciamo avanti indietro mentre sterziamo non sterziamo niente ci sterziamo le braccia ci facciamo i muscoli qui un'altra plancia dove vabbè il centrale quello delle quattro frecce siccome ero rovinato io l'ho verniciato non sono riuscito a trovare la decalcomania per adesso del triangolino d'emergenza ma la metterò la sede per la radio poi sotto abbiamo la reazione quindi sui piedi da sua giù su e giù insomma vedete qui aspetta vi faccio vedere meglio quindi tutto in cui lo disappannamento poi qui attenzione abbiamo anche il ricircolo dall'aria vediamo se vogliamo il ricircolo oppure aspirata dall'esterno e la temperatura sotto alta e bassa la ventola che ha è una ventola diciamo analogica si può non è a scatti ma bensì piano piano che noi giriamo aumentiamo diminuiamo la velocità